Paolo Tamiazzo, Arci dell'Umbria. L'Arci è il Comitato Promotore Nazionale e in molti comitati territoriali e regionali per il nono, perché pensiamo che questa controriforma attacchi la possibilità dei cittadini di partecipare attivamente alle scelte e alla vita politica. Questo è l'ultimo tassello di una politica che negli ultimi anni ha visto restringere gli spazi di partecipazione democratica. È partito dal governo Monti, la coalizione delle province, i consigli comunali ridotti, i consigli regionali ridotti, le giunte piccole. Noi pensiamo che invece gli spazi democratici si devono allargare e questa invece è una riforma che va contro questa tendenza. L'Arci è molto preoccupata per questo e per questo noi siamo convintamente partecipi e promotori dei Comitati del Nord.